In attesa dei numeri che in queste settimane non ci sono stati, in aula consigliare si ritorna mercoledì. L'ordine del giorno avrà poche variazioni, visto che l'obiettivo della maggioranza sarà approvare il piano economico finanziario sui rifiuti e il provvedimento per le tariffe tarie. Si prevedono anche in questo caso tentativi di arrivare ad un'autosufficienza che al momento i progreco sembrano abbiano. Perfettari vanno approvati entro fine luglio e possono essere il prologo politico alla maratona degli atti finanziari. Tra i primi alla sise civica dovrebbe arrivare il consultivo, quasi fondamentale per cercare di rafforzare la batteria dei dirigenti che in municipio perde pezzi. Poi dovrebbe essere la volta del bilancio di previsione degli atti propedeutici. A differenza dello scorso anno, quando si arrivò all'approvazione prima della pausa estiva, potrebbe volerci più tempo il lavoro degli uffici in corso, anche se non sembra così facile stringere per il voto entro le prossime settimane. Anzitutto la maggioranza dovrà dimostrare di poter mettere insieme i numeri necessari a portare a casa peffettari, almeno in seconda convocazione. Tra le fila dei progreco, infatti, c'è già chi è proiettato all'eventuale seduta di giovedì, quando ci vorrà una soglia inferiore di sì per far passare i due atti. L'opposizione non sembra intenzionata a fare da sostegno, permettendo così ai progreco di superare i tanti tentennamenti. La scorsa settimana la capigruppo, convocata dal presidente della Sise Civica, Salvatore Sammito, non si è raggiunto il numero legale. Lo stesso Sammito così ha disposto la convocazione dell'aula appunto per mercoledì. La maggioranza si troverà in aula in un periodo di piena ripresa anche dei calcoli politici, con tanti alleati del sindaco attenti alle scelte che Greco potrà assumere anzitutto in giunta.